Ho appuntato il numero delle visualizzazioni Ho capito, questa è la tazza del cesso Avete brulino? Allora aspetta Vi faccio vedere un secondo, tavolino abusivo Tavolino abusivo? Ma sì che tanto c'è il condone In Italia ti condolano tutto Allora ragazzi Vi faccio vedere un secondo, mi sono appuntato Le visualizzazioni, perché siccome un pagliaccio Monetizza, il pagliaccio monetizza Io lo doppio nelle visualizzazioni Quindi lo sbucciato davanti Perché il rivale, lui è quel pigiamento Tu sei il rivale Questo pigiamaio che poi mi hanno Criptato tutti i messaggi che io facevo Contro Il panda canarino Dopo lui è salito in groppa Allora lasciamo perdere Pandino Club 117.721 visualizzazioni 191 iscritti Con migliaia di video pubblicati Che dopo vi pubblico Nella sezione commenti Pandino Gold 15 iscritti 10.981 visual Pandino Scassato 36 iscritti 29.583 visual Pandino Club 1 123 iscritti 58.439 visual Live show 31 iscritti Allora live show Pandino live show 31 iscritti 31.000 iscritti Club Real 44.161 iscritti Comunque Ho fatto casino Ma dopo vi metto Tutto in descrizione Comunque ho più di 300.000 view Hai capito? Più di 300.000 Il pagliaccio ne ha Meno della metà A 10.000 view Il pagliaccio Con gli occhiali Tedescato Ho fatto Ho fatto Grazie.